Intensificato l'impegno degli agenti della Polfer che hanno svolto controlli anti-abusivismo nelle stazioni di Battipaglia, Salerno e Napoli Centrale. I poliziotti hanno controllato e sanzionato 22 ventitori abusivi, oltre a sequestrare centinaia di accendini, calzini, ciondoli, penne e fazzoletti destinati alla vendita abusiva. Gli agenti del compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno voluto contrastare un fenomeno che compromette la tranquillità e la regolarità del trasporto ferroviario. Spesso i venditori abusivi, oltre ad infastiditi viaggiatori, si rendono responsabili di aggressioni al personale ferroviario.